che sia neuto, ma quello che voglio dire è questo, siccome tocchiamo, lo dico subito, un terreno molto spinoso, su cui, per le cose che dirò, ovviamente c'è chi si dispiacerà, c'è chi si lamenterà, mi sono già arrivato a lamentere da varie parti d'Italia, non me ne importa niente, perché io dico quello che penso, quello che impede per il mio territorio, che se ne facciano una ragione, pieno rispetto degli altri, però io le cose che penso e che dico le dirò finché avrò voce. Detto questo, quindi pieno rispetto delle idee che si possono avere, io gli dirò quali sono le idee, che cosa penso io, il che però può darci quel che sbaglio, sarà ognuno di voi che si farà una idea. Io penso che, scusatemi la digressione, nell'era moderna si sta perdendo il senso, come dire, della diversità, della dialettica, non si può avere idee diverse se non litigare, invece io penso che non è così, possiamo avere idee diverse, l'avvocato Cilitali potrà pensarla in un certo modo, ritenere che il Tribunale di Foggia vada bene, non ci siano necessità di quello che io invece mi dirò, amici come prima, le idee sono una cosa, il rispetto delle persone. Ho apprezzato molto l'intervento di Stefano Foggia, del portfoglio, con cui da sempre abbiamo ottimi rapporti, ottima intesa, io dirò con chiavezza quello che voglio, quello che propongo. il punto è che altri, che sono le persone a cui, che hanno il compito di portare avanti questo progetto, che devono sapere che cosa vogliono, e gli avvocati che devono sapere che cosa vogliono, sono i politici che devono sapere che cosa vogliono. Io ve lo dirò, però il mio compito, ripeto, l'ho premesso, è quello del procuratore della Repubblica, dico quello che penso, in base all'esperienza, lo dico ai cittadini, poi saranno non aggiungere. E veniamo al tema, da dove nasce, da dove nasce questa mia idea? Il compito di un procuratore è quello innanzitutto di conoscere il territorio, capire il territorio, innanzitutto da un punto di vista geografico, poi da un punto di vista della gente che lo abita, della condizione sociale ed economica del territorio, conoscere la criminalità del territorio, perché se noi quando facevamo i progetti organizzativi, se voi, il progetto organizzativo di un ufficio giudiziale, non è un atto segreto, vedrete che a mia parte l'analisi del territorio, l'analisi socio-economica del territorio, l'analisi della criminalità, altrimenti io come faccio a organizzare una procura della Repubblica e dice che serve questo, serve questo, serve questo. Allora quello che sto per dirvi nasce da questo, dall'analisi del territorio, dai quali sono i problemi e io cercherò brevemente di esportli per far sì che voi, voi vi facciate la vostra idea che potrebbe essere assolutamente diversa da me. Allora cominciamo col dire, dati di fatto, il territorio della provincia di Foggia, l'ha già detto l'Avvocato, è la terza provincia più vasta di Italia, se non che non è solo questo, il circondario di Foggia va oltre la provincia, comprende tre paesi della provincia Batti, che sono niente meno che i Mangriti, i Savori, Trinità e San Ferdinando. Sapete qual è la superficie del circondario di Foggia, cioè del territorio che è amministrato dalla procura della Repubblica e dal Tribunale di Foggia, tenetelo a mente, oltre 7200 km2. Primo dato lo mettete da parte. Poi mi chiedo anche questo territorio come è fatto, quali sono le strade e scopriamo che è un territorio imperdio, non è tutto pianeggiante, c'è il Gargano, ci sono le strade difficili, c'è la costa, una costa frastagliata, è chiaro che se non capiamo questo non spieghiamo perché poi gli sbarchi della sostanza superfacente che vengono dai paesi dell'estero avvengono sul Gargano e non avvengono a Termoli, non avvengono a Dancona, perché? Perché le coste del Gargano, noi abbiamo 100 km di coste, questo è un dato che il procuratore prima di mettersi a fare il procuratore della Repubblica deve studiare, deve sapere che nel proprio territorio ci sono 100 km di coste, che queste coste sono frastagliate, che molte coste sono inaccessibili dalla terraferma, che nel Gargano ci sono le gravine dove guarda caso quella droga che viene sbarcata sulle coste del Gargano viene custodita, deve conoscere la realtà economica perché se no non sa, perché la criminalità, guardate, ha due grandi momenti, la passione è il più uno dei momenti, però quantitativamente incide molto meno, il vero momento del delitto di qualunque esso sia il denaro, il business, l'affare e quindi se uno non conosce il proprio territorio, quali sono gli affari del territorio, in particolare in questo territorio l'agricoltura e il turismo, non può nemmeno combattere la criminalità, poi comincia a scoprire la criminalità e dice guarda, guarda, la criminalità non è una criminalità, sono tante criminalità, forse le uniche che sono vicine sono la Foggiana e la Sanseverese che da sempre hanno avuto dei rapporti più stretti, ma la Cerignolana è un'altra cosa, la criminalità del basso tavoliere è un'altra, la criminalità del Gargano è diversa, sono diverse le tipologie di reati, a Foggia e Sansevero il reato tipico e l'estorsione, a Foggia c'è molta usura, sul Gargano c'è molto traffico di sostanze stupefacenti, delle droge leggere, proprio per la ragione che vi ho detto, le aggressioni alla criminalità vengono per lo più alle strutture recettive e turistiche, a Cerignola il reato più tipico.